Ieri abbiamo concluso la definizione che Pino Petruzzelli, fa dei poveri, nel suo libro titolato Gli Ultimi, con queste parole. Sono questi gli ultimi che ho incontrato nella convinzione che, se fossero ascoltati, avrebbero molto da insegnarci. La nostra società, lo Stato, l'economia, la finanza, la politica, la stessa Chiesa, chi ha come maestri? Chi ha come modelli? Guardate che è vero. Se noi ci lasciassimo educare dagli ultimi, dai poveri, loro ci insegnerebbero veramente cos'è la vita. E gli ultimi, i poveri, abbiamo detto, non sono soltanto gli emigrati, gli immigrati, gli stranieri, i carcerati, i senza tetto, le persone che soffrono. No, gli ultimi sono anche quelli che oggi sono fuori dal coro, quelli che sono onesti nella gestione della cosa pubblica. Gli ultimi sono gli uomini di partito, i governatori che non si arricchiscono. Ultimi sono deputati, senatori, rappresentanti del popolo che non si aumentano gli stipendi, mentre la gente non sa come arrivare a fine mese. Gli ultimi sono quei preti, quei diaconi, quei religiosi, quei vescovi, il cui conto imbanga è sempre rosso. Perché donano, perché danno. Gli ultimi sono i docenti che riescono e che credono nella scuola appunto come vocazione, come luogo di educazione, di crescita, di confronto. E non soltanto come luogo di erudizione. Gli ultimi sono coloro che denunciano ingiustizie, corruzioni. Gli ultimi sono coloro che si ribellano alle mafie, alla camorra, all'andrangheta. Gli ultimi sono coloro che denunciano chi spaccia droga. Gli ultimi sono coloro che denunciano chi evade le tasse. Gli ultimi sono coloro che scelgono lavori umili, che noi consideriamo forse poco redditizi, come i contadini, ma che sono basilari. Ecco perché gli ultimi, se fossero ascoltati, sarebbero per ognuno di noi dei maestri. Perché ci insegnano la vera vita, i veri valori. Ci insegnano veramente come fare a riempire il cuore per essere felici. E questi ultimi ci insegnano che tu, per essere felice, il cuore lo devi riempire d'amore, ma lo devi continuamente svuotare. Perché solo così si dà senso alla vita, si dà senso all'esistenza, indipendentemente dalla fede, se si è cristiani o non cristiani, credenti o non credenti. Io vi aspetto domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Ciao!